Oggi, carissimi e carissime, e anche cani, gatti, frigoriferi, di ogni cosa bella, parleremo di un particolare autore. Beh, onestamente non è tanto particolare, visto che è il trentesimo autore ad essere depresso e a trasmettere la sua depressione ai lettori. Ogni riferimento al nostro amicchetto foscolo è puramente casuale. Ovvero, questo tizio qui. Voi non potete vederlo, ma io ce l'ho davanti proprio in questo momento. Vedi che bel vedere. Quindi, come iniziare a parlare di questo concentrato di depressione? Vedete, questa depressione stavolta è giustificata, capirete più avanti. La prima cosa che possiamo dire è che ha un nome lunghissimo, che non starò qui a dire, sia perché non ho voglia, sia perché mi prenderei metà puntata. Di sicuro non gli hanno mai chiesto di scrivere il suo nome alla lavagna. Una volta ha pure provato anche a scappare di casa, e ci credo i suoi non lo cagavano di striscio. Poi però si è ricordato che a casa sua era l'unico posto dove aveva avvitto alloggio gratis ed è tornato indietro, come faremmo tutti noi. Una volta si è pure innamorato, beh, in realtà più di una volta, eppure nella città italiana più elegante al mondo, dopo Gusto Arsizio. Ovvero Firenze. Si è beccato un due di picche nei denti. Appunto, cioè, va che faccia che aveva. Non siamo prof! Buonasera a tutti, siamo qua con Margherita. Ciao a tutti! E con Michael. No, non ho un saluto da dire, qualcuno mi consiglia, un saluto. Prova buon salve, come l'altra volta. Eh no, devo essere originale stavolta. Eh allora, puntiamo sul giorno buono. Ah ok, a sbrigatio. No, no, non è a sbrigafiui. Ciao. A sbrigafiui. Ciao. Quindi, di che si parla oggi? Del trentesimo depresso della nostra vita, come hai detto tu. Giacomo Taldegardo, Francesco Di Sales, Saverio, Pietro Leopardi. E datemi qualcosa per rifocillarmi, perché veramente non ce la faccio più a dire sti nomi. Prego. Ragazzi, voi tutti siete stati educati con la consapevolezza che lo studio sia una cosa praticamente indispensabile per fare carriera e vivere una vita felice. E soprattutto siete stati educati con la consapevolezza che lo studio fosse una noia mortale. Esatto. Ma questa cosa è falsa. Esattamente. È giusto? No, è falso. E sapete perché? Perché lui, Leopardi, ha studiato tutta la vita e adesso è gobbo e cieco. Quindi, ragazzi, non studiate mai. Sì, ma è anche morto. Esatto. Adesso è morto, però quali sono dettagli. A parte quello, intendo nel passato. Quindi, ragazzi, non studiate mai, perché studiare vi farà diventare gobbi e ciechi. E depressi. E di conseguenza brutti. Quindi, non depresiate. E morirete per un digestione di confetti. Quindi, per favore, evitiamo, eh. Sì, che poi... Indigestione di confetti. Cioè... Come fai... Mangiarti così confetti... Così tanti confetti che muori. Come fai? Eh, c'aveva un problema, lo so, ma con il forello e quindi... Ha messo il confetto che ha fatto traboccare il vaso. Ma l'ha lavata veramente? Aveva il diabete? Sì, sì, davvero. Aveva il diabete? Non lo so. Come fai, cioè? Ha ideato la teoria del piacere e vissero tutti tristi e depresi. Sì, infatti, cioè, ragazzi, questo qua diceva che la felicità non esiste. Ma che problemi aveva? In realtà non diceva che la felicità non esiste. In realtà diceva che la felicità sta soltanto... Stai nell'attendere un qualcosa e quindi sono... Vuol dire che era depresso. Poraccio. Depresso anche lui. Ovviamente. Lui è un depresso e quindi pessimismo. Wow. Che poi, raga, cioè, sei innamorato un po' di volte, ma non lo cagava nessuno. Cioè, e prima la signorina Fanny. Fanny Targioni Tozzetti, perché i nomi sono il nostro mantra, che ovviamente, niente, sottone fino alla morte, però prima della morte è arrivata la cugina Gertrude Cassi Lazzari. Ma cos'è? Che gli ha dato il palo pure lei, cioè. Ma dove siamo qui? A Beautiful siamo. No, Beautiful è anche meno complicato e meno lungo rispetto a questo. Insomma, più o meno sulla lunghezza ti potrei un po' contestare, però vabbè, non è questo il punto. Cosa molto strana è che era innamorata della cugina. Eh, sì, come ho detto. Di nome Gertrude Cassi Lazzari. Ho appena detto, Mike! Già, peccato che io sono sordo e quindi non sento niente. Ah, ok, questa la teniamo, eh, raga, questa la teniamo. Tutto quello che dite io lo ripeterò, perché non ho le orecchie. Come era innamorato di sua cugina. Eh, sì, sai com'è? Che siamo nell'ottocento, la gente si innamora, chi se ne frega. Al giorno d'oggi è normale, ma prima no. Beh, no, in realtà era più normale una volta innamorarsi dai parenti che di adesso. Però vabbè, specialmente tra i sovrani, però vabbè. Che tra l'altro, ragazzi, ho scoperto che lui aveva l'abitudine di far colazione il pomeriggio e il pranzo a mezzanotte. Ora, se tu fai il colazione il pomeriggio e il pranzo a mezzanotte, la cena quando la fai? Mentre dormi. Cioè, easy. Cena mentre dormi. Esistevano le flebo? Seriamente, dalla regia esistevano le flebo? Ah no, dice di no alla regia, cavolo. Come fai a cenare mentre dormi? Questo è uno di quei temi che avrebbe potuto trattare durante le sue opere, sapete? Ah, ho capito, aspetta. Tipo, si ficca, avete presente il bambù? Ecco, usava il bambù come cannuccia, faceva un frullato di cibo e ficcava il bambù in bocca. E tipo, mentre respirava, sapete che la gente respira mentre dorme, e respirava con la bocca e allora ogni volta che respirava, e mangiava. Comunque, ragazzi, avete sbagliato a cliccare perché questa è una lezione di scienze, non è la puntata sui leopardi, eh, mi raccomando. E ho, vibes da barbascura. Comunque. Lui è un esperto. Qualcuno ci sarà chiesto perché nella mia sfilza di pali non ho nominato Silvia. Perché non ha preso il palio. Esatto, bravo. Perché è morta prima. Eh, no, in realtà lui non la conosceva neanche. Lui praticamente la guardava dal suo studio, quindi, cioè, proprio stalker, la guardava, ha cambiato il suo nome, perché questa qua si chiamava Silvia, poverina. Lui ha deciso, ah, vabbè, adesso ti chiamo Teresa, eh, ho sbagliato. Questa qua si chiamava Teresa, poverina. Vabbè, adesso la chiamiamo Silvia perché Teresa non mi piace, perché c'ho la badante che mi sta antipatica e si chiama Teresa. Teresa. Esatto. Teresa. E niente, questa qua si chiamava Silvia, eh, poverina, è morta. Teresa si chiamava, non Silvia. Che poi, ragazzi, allora, dico, dico un'altra cosa. Eh, voi avete notato che noi, eh, sbagliamo parecchie volte quando diciamo le, le cose, quando parliamo. Però, ragazzi, noi siamo più naturali, anche perché non abbiamo voglia di editare, ok? Non abbiamo voglia, ok? Soprattutto perché abbiamo... Lasciateci in pace. Alla fine però ce la faccio. No, salut. Siamo la nostra editor, poverina, che è... Ciao, Eito. ...è qui che ci guarda. Allora, è proprio, è proprio a qualche centimetro di distanza da me. Possiamo dire il nome? Ciao Camilla. No, scherza, si chiama Viola perché c'è tutto un meme dietro, capirete forse. Alla fine l'hanno lasciato andare a Roma. Sì, è andato a Roma alla fine. Che tra l'altro, allora, no, aspetta, ragazzi, ma questo qua, cioè Leopardi, aveva contatti con esseri umani, a parte lui? Cosa intende? Un minimo di contatto con gli esseri umani. C'era... Come si chiama? Ranieri, il nome? Non me lo ricordo più. Massimo. No, non è quello. Massimo Ranieri. Non quel Massimo, non quel Ranieri. C'è un altro Ranieri. Del quale il nome non mi ricordo più, ma sono dettagli. Era il suo migliore amico, praticamente, e quindi penso sia quello l'essere umano che stai cercando, Mike. Non aveva mai parlato così. Eh, appunto, no, per quello, cioè, se lui non sopportava nessuno e aveva critiche per tutti. Non c'era neanche una persona che andava a dirgli, uè, ma ti sei visto allo specchio? Cioè... Sì, vabbè, ma secondo me questo qua si è guardato allo specchio. Questo qua, il suo specchio era lì. Però criticava tutto. Esatto, criticava tutto. Raga, dalla regia mi dicono Antonio Ranieri. Grazie, regia. Il nome sa fa per gli amici. Molto meglio Massimo Ranieri. Pensare che Massimo Ranieri sia un viaggiatore del tempo. Sì, almeno Massimo Ranieri si degnava di dare le rose rosse ai suoi amori, mica come questo qua, pali su pali su pali, manco due rose, no? Manca una porta da calcio, veramente. Cioè, il suo mantra è tipo, ciao, sei molto bella, ti amo, però ti tratterò male per tutta la tua esistenza. Wow, quelle cose che adesso non dovrebbero mai più esistere, vabbè. Troppo capì pure le traverse. Eh? Oltre che i pali, poi ho pure le traverse. Esatto. Sapete, quindi niente, avete scoperto perché era depresso. E soprattutto perché studiava un botto, cioè, sette anni. Adesso, ecco, ecco, a proposito, a proposito di studiare, io mi sono stancato, quindi adesso vado a ripassare inglese. Ciao ragazzi. Prendiamo il libro. Ok, c'è una parola in italiano. C'è una parola in italiano che, boh, non ho capito. Cioè, dovrebbe essere il libro di inglese, questo. Eh? I consigli di Marghe. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio. E il naufragarme dolce, in questo mare. L'infinito. Con questo preambolo potrei chiudere qua, ma, ehi, la regia mi dice di parlare ancora, e quindi provvederò. Leopardi parla dell'incredibile bellezza del paesaggio, che lo cattura e lo attrae nella sua immensità. Ciò che vi dico è, anche se annegare nel paesaggio non sembra proprio una bellissima prospettiva di vita. Infatti, ragazzi, era depresso, cioè, capiamoci. Ciò che questi ultimi versi dell'infinito dicono, in una sostanza molto sostanzosa, è che, per esempio, quando siete in giro, in montagna, al mare, nello spazio, con gli alieni, con il vostro gatto, il vostro cane, perché noi non siamo discriminatori, guardate ciò che vi circonda e provate a fare un piccolissimo bagnetto. Pucciate i piedi, proprio senza dover annegare, nel paesaggio che vi circonda, e ammiratene le bellezze. Poi, se vi trovate nei pressi del lago di Como, ci sarebbe un ramo in cui ci troveremo la prossima volta. A sta la vista!